Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto a una missiva di Maria Rendani, vicepreside dell'Iqbal Masì, la scuola di Pioltello che resterà chiusa per la festa di fine Ramadan. Ho ricevuto e letto con attenzione la sua lettera e nel ringraziarla desidero dirle che l'ho molto apprezzata, così come, al di là del singolo episodio, in realtà di modesto rilievo, apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell'adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo, ha scritto il Capo dello Stato. La decisione di chiudere, confermata lunedì, ha detto il Ministro Giuseppe Valditara, passa ora all'ufficio scolastico regionale che farà tutte le ulteriori valutazioni del caso. È improbabile però che ci sia un'impugnazione al TAR per annullare la delibera corretta e se docenti e genitori del Masì chiedono che si spengano i riflettori, non si placa la polemica politica. In Parlamento, Fratelli d'Italia ha annunciato un'interrogazione al Ministro dell'Istruzione. Il Presidente della Regione Lombardia ritiene la scelta del Masì fuori luogo. Secondo Fontana, a questo punto bisogna prevedere una chiusura per tutte le feste di tutte le religioni praticate sul nostro territorio. L'eurodeputata leghista Silvia Sardone spiega di aver ricevuto messaggi di mamme della scuola che non sono assolutamente d'accordo con la delibera e in calza. Queste scelte sono segnali evidenti di un processo di integrazione al contrario.